Buongiorno, sono Kerberos e benvenuti nella mia cucina. Allora, vi starete chiedendo, ma Kerberos perché ti prepari la colazione? In un video, a parte che il titolo dice tutto, poi molto semplicemente mi sono voluto prendere un piccolo spazio informale, il tempo di una colazione, siamo qua, io e te, voi, dipende dai punti di vista, facciamo colazione insieme, parliamo dei nostri problemi, dei miei, perché voi non mi potete parlare così, e io vi spiegherò il tema di oggi. Pochi tagli, poco editing, una musichetta di sottofondo che io faccio finta che ci sia, senti che bella, è, trucco del, è, la quarta parete. Il tema di oggi è, con sto canale, insomma, che ci fai? Allora, molto semplicemente. Poi vi starete chiedendo, in che direzione vuoi portare questo canale? Vuoi fare gaming? Vuoi fare intrattenimento? Vuoi fare monologhi? Vuoi fare qualsiasi tipo di video che ti venga in mente, con una trama, con un tema, con una storia, con una cosa scritta su un computer, e tu parli alla telecamera recitando questa cosa scritta sul computer? Non lo so. Non so ancora dove voglio portare questo canale. Non voglio concentrarmi su un solo tipo di contenuto, tipo fare solo gaming, fare solo quello, fare solo quello, fare solo schifo, sì. fare solo un tema, no. Perché? A parte che è limitante, prima, ma poi, io ho molte idee per questo canale. Piano piano, noi, le andremo a scoprire tutte quante. Per adesso voglio tenermi molto largo. Battute sui ciccioni. Comunque. Per adesso voglio tenermi largo. Voglio provare a fare un po' di tutto. Ho già in mente una serie di gaming con un gioco abbastanza famoso. vecchio. Perché? Io sono una bella persona che non gioca le pietre miliardi dei videogiochi perché dice un giorno, se ti apri il canale, che cosa gli fa vedere se giochi a tutto? Eh, giustamente. Non è vero mai. Invece sono una persona brutta che non gioca ai giochi semplicemente perché... Bé... Balla a sapere. Non ho solo in mente, comunque, questa serie di gaming. Ho anche in mente un altro paio di idee. che molto probabilmente non saranno delle serie, ma saranno più dei video singoli. Una roba settimanale, due volte a settimana. Quindi, in conclusione di questo breve video, speriamo. C'è chi dice, eh, perché quelli che sono davanti alla telecamera, per non dire youtuber, perché ho 50 iscritti e mi sembra ancora abbastanza precoce dire youtuber, quelli che stanno di fronte alla telecamera non sono come sono nella vita reale, tendono a fare un personaggio. No. Io ci tengo molto semplicemente a rendere la cosa il più vera, il più... Vi parlo al cuore come se fossi un fratello. Che poi non ha fratelli. Però... Conta il senso. Conta il messaggio. Questo video, comunque, penso che sarà il primo di una serie chiamata, appunto, Colazione da Kerberos. Colazione da Tiffany, colazione da Kepp, basta. E... Dove, quando avrò qualcosa da dire, monologhi, cose varie, mi metterò qui di fronte. Quando dovrò affrontare un tema, e in modo molto informale, vi parlerò. Spero che il video sia stato esplicativo, che vi abbia spiegato un po' dove voglio portare questo canale. Probabilmente ho detto un sacco di fuffa. E basta. E noi... Ci rivediamo alla prossima colazione. Che buono il cappuccino. Dio... E vai... Grazie.